E torniamo alla cronaca. Domani per il giudice Marisa Manzini sarà l'ultima udienza che terrà Vibbo da sei anni. Questa donna vive sotto scorta, ora lascia definitivamente il Tribunale di Vibbo per la Procura Generale di Catanzaro Pino Nano. Ci ricorda il lavoro di questo magistrato che ha messo alle corde come nessun altro la potentissima Cosca dei Mancuso di Limbadi. Vediamo. Storia la sua di una donna esemplare. Il coraggio che Marisa Manzini ha seminato per strada ogni giorno in difesa dello Stato del diritto e contro le più potenti cosche mafiose del Vibonese non conosce uguali. Storia la sua di una donna magistrato senza compromessi, trasparente, austera, impeccabile, corretta ed esemplare. Ma il suo lavoro è andato avanti in tutti questi anni in maniera difficoltosa. Ha lavorato per mesi e mesi da sola. Pareva che lo Stato l'avesse abbandonata a se stessa, in condizioni precarie, con le scorte dimezzate, il personale insufficiente. In queste condizioni aveva detto vado via, aveva chiesto il trasferimento. Domani per lei sarà l'ultima udienza a Vibbo Valencia, nella città dove Marisa Manzini ha scoperchiato il grande pentolone del malaffare, mettendo finalmente alle corde la cosca più famosa della provincia, quella dei Mancuso, e costringendo i giornali, anche quelli nazionali, ad occuparsi in prima pagina della vita quotidiana di un paese come l'Imbadi, regno incontrastato dei Mancuso. Senza il coraggio di Marisa Manzini, che sull'altare della toga ha sacrificato gli interessi privati di tutta la sua vita, nulla forse si sarebbe mai mosso per davvero da queste parti. E invece lei, con cocciutaggine, ha squarciato un muro di omertà e di connivenze antiche, e complicate anche, da raccontare. La nostra speranza oggi è che ora che lei va via, il suo lavoro non finisca nella spazzatura, come mille altre cose serie di questa regione purtroppo sono finite.